allora 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 quando normalmente con i normali smartphone bisogna scattare le foto a volte magari può essere utile avere avere un sistema per scattare a distanza perché a volte magari uno dice c'è il famoso braccio di ferro come si chiama la sticella però in realtà dovete sapere che basta collegare una normalissima cuffietta potete tenere anche il telefono lontano appoggiarlo da qualche parte eccetera e semplicemente premendo il tastino del questo qui centrale ci si scatta la foto che non sapevo si scatta la foto e quindi è molto comodo perché ecco la foto che ovviamente è venuta malissimo ma è bella con questa sfumatura artistica artistica molto però dimostrato che col tastino possiamo scattare la foto bravo marco